Eccoci qua, signore Francesco Lamano, punto di riferimento nell'online marketing per parrucchieri, porto a successo, parrucchieri, imprenditori, liberi, professionisti. Bene, ferma tutto, cliccate la campanella qui sotto e iscrivetevi subito al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda le novità di online marketing per parrucchieri. Bene, oggi di cosa parliamo? Arriva la mentorship di Olympiker Salon. Bene, la prima mentorship che mettiamo in piedi, che è rivolta a propri parrucchieri. Che cos'è innanzitutto una mentorship? Poi andiamo a definire bene il tutto. La mentorship è un percorso di affiancamento per degli studenti avanzati di tutto quello che riguarda il marketing. Io sono in diverse mentorship, ok signori, ed è molto utile e diciamo l'aspetto prevalente ormai in tutte le grandi società di consulenza e società di erogazione di informazioni, quindi di formazione di corse e quant'altro. Perché? Perché consente direttamente di andare a affiancare quello che è lo studente nel suo percorso di lavoro, aiutandolo a risolvere in maniera specifica le problematiche che lo affingono. Io ho fatto e continuo a fare moltissimi corsi di marketing, di tutto quello che concerne questi aspetti, economia aziendale, contabilità aziendale, ragioneria, diritto tributario, marketing e via discorrendo. Quello che ho visto funzionare di più, proprio nei percorsi che io ho svolto, direttamente, sono proprio le mentorship. Perché? Perché si hanno delle persone che ti seguono per sempre. Ovviamente no! Ovviamente no, ragazzi. Adesso andrò a specificare il tutto. State qui con me perché vi faccio veramente godere oggi, ok? Dicevo, non è per sempre, è per un determinato periodo di tempo. A seconda, ovviamente, potrebbe anche essere per sempre, dipende quanto si spende. Io per esempio ho delle mentorship annuali attive, con varie accademie, varie società di informazioni, perché ovviamente debbo aggiornarmi su diversi aspetti, come dovreste fare voi. Dicevo, perché è interessante? Perché ad esempio se ha un problema specifico si va a risolvere. Nella mia esperienza ho visto che, non solo io, a dire il vero, si è visto e ho visto che i corsi, ci sono, il mondo del parrucchiere nasce nell'ambito marketing e continua ad essere così. Se andate a vedere tutti i miei competitors, che lavorano molto bene, signore, attenzione, e che da tanti anni sono sul mercato, propongono un modello nel quale si fanno dei corsi in presenza, molte volte a platea, molte volte con classi ridotte. Come vi ho già detto, la criticità di questo modello e l'impossibilità di andare a rivedere continuamente quelli che sono gli ottimi contenuti che vengono erogati e pertanto l'impossibilità di ripassare e di ripetere quelli che sono i concetti più importanti e poi successivamente applicarli. Ho introdotto un modello di videocorsi, che alcuni dei competitor lo fanno in maniera, diciamo, ridotta rispetto alla pletora di prodotti che ho messo io sul mercato, ma anche in questo caso, sono sincero, ho visto che poi effettivamente, cari parrucchieri, voi studiate poco, siete poco inclini allo studio, siete poco inclini a vedere e ripassare questi corsi, a prendere appunti e pertanto vi trovate sempre con le medesime problematiche. Cosa invece funziona davvero? Il fatto di dire, ok, ho questo problema del tipo, non sono capace a fare le campagne, non sono capace a farmi il sito, non sono capace a acquisire clienti con Facebook, non sono capace a vendere con le cose, non sono capace a fare tutte queste cose, c'è una persona che mi spiega esattamente come farlo, vis-à-vis one to one, one to many, one to few, quello che volete. E questo funziona, ragazzi. E questo funziona, perché con gli studenti privati, che ho, che dove effettivamente applichiamo questo sistema, i risultati ci sono. Ovviamente, come ben sapete, non con tutti. Non con tutti, con quella parte di clienti, di parrucchiere, che davvero si vuole impegnare. E io stesso, ripeto, o applico, utilizzo questo sistema come studente, e lo applico ad altri miei clienti, barra studenti. Ora, è stato un percorso, quindi per concludere, scusate, si arriva al problema, si arriva direttamente al punto, lo si risolve, lo si risolve. Posto che anche voi collaboriate, perché altrimenti non è possibile. Ora, c'è stata una grande discussione con il mio team, perché effettivamente abbiamo in ballo tantissime cose, abbiamo il sito, abbiamo, che ormai è diventata una vera e propria rivista, nel mondo bellezza e beauty, mondo parrucchiere, sempre parrucchiere, ok? Abbiamo le guide gratuite che eroghiamo a voi, abbiamo il canale YouTube, abbiamo il podcast, abbiamo le consulenze provate, abbiamo 10.000 cose, abbiamo anche una mentorship, abbiamo la membership, abbiamo i videocort, ragazzi, c'è un casino di roba, ci sono i libri, li vedete qua ragazzi, ci sono i libri. Mettere a mercato un altro servizio ci ha fatto riflettere molto, mi sono consultato con i miei ragazzi, che sono persone eccezionali, ed effettivamente abbiamo convenuto che questo è davvero il servizio migliore che possiamo erogare per voi, perché, ripeto, se voi i vostri problemi sanno quali sono, si tratta di non guadagnate, avete un utile bassissimo, quindi un utile basso, fish media bassissima, ridicola, non sapete alzare i prezzi, non siete in grado di alzare i prezzi, non sapete come farlo, non sapete fare un menu servizi, perché si continua a parlare, ma il menu servizi è una chimera in Italia, io sono stato il fautore e l'ideatore del vero e proprio menu servizi, non sapete gestire il team, non sapete acquisire clienti, non sapete… sono queste le problematiche. Allora, ci siamo detti, ci mettiamo lì, creiamo un programma di affiancamento, mentorship, dove il mentore che sarei io, vi spiego esattamente, io o i miei ragazzi, perché dipende, anche lì ci sono varie tipologie di mentorship, non sono tutte uguali, ci mettiamo lì, vi spieghiamo esattamente come fare determinate cose, ragazzi, se non siete dei coglioni, poi le fate e funzionano. Non ci sono più scuse, non ci sono più scuse di dire non ho capito, non ho fatto, però devo studiare, no, ti dico, devi fare X fa X, se fai Y è logico che non funziona. Poi è logico che i risultati si vedono nel medio termine, non è immediato, è logico, no? Se voi volete raddoppiare l'affisce lo potete fare, anche treplicarla, l'ho fatto con i miei clienti, ma ci vuole del tempo, non può essere dall'oggi al domani. Però tutto questo vi agevola, perché avete già la pappa pronta, avete già la pappa pronta. Quindi, percorso eccezionale, percorso che ha consentito, la mentorship non era prevista, non era a mercato, ma ha consentito con i miei studenti privati, che seguo tuttora, di fargli ottenere risultati straordinari. Ci sono stati saloni che hanno, oltre che raddoppiato il fatturato, oltre che raddoppiato il profitto, l'utile netto, ci sono i miei clienti che si sono arricchiti, ragazzi che si stanno arricchendo. In un momento in cui davvero c'è una difficoltà estrema nei saloni, ad andare avanti per tutte le problematiche che ne concernono, alcuni miei clienti, ve lo dico, si stanno arricchendo. Che vi devo dire? A seguirmi ci sono dei grandi vantaggi. Quindi, come funziona la mentorship? Andiamo a noi. Innanzitutto la mentorship può essere o con me, o oppure con direttamente il mio CEO, che ho formato direttamente io, e che conosce esattamente le stesse cose che conosco io. Lo giuro che se volete me, direttamente, dovete pagare molto di più. La mentorship innanzitutto a chi è rivolta? È rivolta a tutti quei parrucchieri che hanno voglia di fare, che hanno voglia di mettersi in gioco, che non sono persone altere, cioè non pensano di conoscere già tutto. Altrimenti che cazzo venite a fare da me? Se siete già ricchi, è andato già bene e continuate così, no? Perché cambiare? Oppure se siete ricchi e volete fare più soldi, evidentemente se venite da me, è perché non sapete farne di più, ok? Oppure volete mantenere la vostra situazione patrimoniale, ma state andando a puttane. Cioè, non è che ci sia molto da dire. Quindi, pochissimi parrucchieri, altamente motivati, gente che ha voglia di tirarsi su le maniche e farsi un culo della madonna, perché c'è da rompersi il culo. Io ve lo dico, chi passa sotto le mie grinfie, me lo dice Frank, ho mal di testa per piacermi, dopo un'ora vi sboffo completamente, eh? La testa e le palle, tutto. Farsi il culo, mettersi in gioco, non rompere le palle, perché nel senso, chi passa la mentorship, comando io. Nel senso che si fa quello che dico io. Poi, non lo volete applicare, va bene, ma non vi venite a dire lo so, non lo so. Non sapete un cazzo, ragazzi. Non sapete un cazzo. Oppure lo sapete e non applicate le cose, ok? Io ho un sistema che è l'Olympic Salon, che conoscete, che funziona da tantissimi anni, che ha reso anche ricchi dei parrucchieri, e che ha consentito a queste persone di andare alla grande. Quindi, questo è. Quindi, che fonde tutto quello che è il marketing tradizionale, l'olene marketing, l'intelligenza artificiale. Io sono il fautore dell'intelligenza artificiale per parrucchieri. L'ho portata io adesso, giustamente, ma bravi, eh? Cioè, chapeau. Nulla da dire, anche i competitor si buttano in questo campo, e fan bene, perché il futuro è questo. Dicevo, intelligenza artificiale e-commerce, scalabilità delle campagne, acquisizione di clienti con Facebook, non Facebook, TikTok, tutto quanto. Questo, davvero, anche questo. Io ne parlavo già quattro anni fa, quando gli altri erano ancora all'età della pietra, si fa insieme. Quindi, pochissimi saloni, io ne voglio nove, non più di nove saloni, ok? Altamente motivati, altamente mentalizzati. Ragazzi, se non siete mentalizzati, lasciate perdere. Dovete sputare sangue, come vi faccio piangere, vi faccio morire, eh? Ve lo dico. Chi non è all'altezza, stia fuori da qui. E anche i miei coach, e il mio... Sì, scusate. Perché solo noi due possiamo fare questa cosa. Ultra Elite Mentorship, seguiti direttamente da me. Elite, seguiti dal mio CEO. Percorso Ultra IT, che costa una madonna di soldi, che effettivamente vi consente di avere dei risultati strepitosi, ok? Non normali strepitosi. Come fare ad accedere? Quindi, cosa si fa nella fattispecie? Si arriva direttamente, si viene affiancati da me, mi fate vedere la vostra, i vostri, il vostro bilancio, andiamo a vedere qual è la situazione, andiamo a vedere quali sono i vostri dati, l'analisi dei dati al gestionale, la situazione, mi esponete subito tutti i problemi e andiamo a risolverli uno ad uno, andiamo a realizzare gli obiettivi. Se sono fattibili, se mi dite, Frank, io faccio 400 mila euro, voglio arrivare un milione e due in un anno, dico, ascolta, non è possibile, forse, è meglio, aumentare, magari, di 100, 150 mila euro, ridurre, i costi, e fare più utile, perché alla fine è quello che vi deve interessare, l'utile, cioè, l'utile e l'aumento del vostro patrimonio personale, quindi utile, aumento del guadagno e aumento del patrimonio personale, del conto corrente, i soldi che avete personale, questo, cioè, lo dico a tutti i clienti, però purtroppo anche questo concetto non passa, con esercitazioni, con lavori da fare a casa vostri, non vi facciamo niente noi, non vi facciamo noi le cose, ve le dovete fare voi, ma una volta che imparate, avete imparato per sempre, ok? Ci sono miei studenti, che si sono arricchiti, studenti che superano il milione, con utili clamorosi, utili, quasi il 30% di utili, ok? Sul 26-27% di utili, risultati strepitosi, gente che mi dice, Frank, ma adesso sti soldi dove li metto? perché vorrei investire, tienili i liquidi, vabbè, vi sto già dicendo troppo, e gente che ha traimplicato, ha fatto il 300% di incremento della fish media, gente che da un momento all'altro, a che andava di merda, a che ha aumentato di 15-20 mila euro, al mese gli incassi, con utili devastanti, team che stavano, erano continuamente insubordinati, sono diventati dei mastini, allora tutto questo si fa nella mentorship, 9 saloni, per il momento 9, in tutta Italia, o meglio, scusate, in tutto il mercato di lingua italiana, che prevede anche, la Svizzera prevede anche, gli italiani all'estero, quindi magari italiani che hanno saloni in Inghilterra, saloni in Germania, saloni in Belgio, saloni in Spagna, quindi questo è, e l'est Europa, perché c'è anche un progetto lì, che ormai è avviato, quindi vi dico, come fare ad accedere? Molto semplice, se voi volete accedere, non accederete immediatamente, perché c'è una selezione, quindi parte la selezione per la mentorship. Cliccate il link in descrizione, lasciate i vostri dati, e un venditore, un mio venditore, vi chiamerà un venditore telefonico, uno del team, uno dei nostri ragazzi, vi chiamerà, per fare una consulenza gratuita, e comprendere se voi, siete all'altezza di entrare all'interno di questa mentorship. Ok? Questo è tutto signori, se davvero volete cambiare il vostro salone, cliccate il link in descrizione, e tentate di accedere alla mentorship. Grazie. Grazie.